Confermata la condanna ad otto anni di reclusione per Biagio Maceri, il titolare del materassificio di Montesano sulla Marcellana, in cui nel luglio del 2006 trovarono la morte la quindicenne Giovanna Curcio di Casalbuono e la 49enne Anna Maria Mercadante di Padula. L'opificio, realizzato nel seminterrato di Palazzo Ciuffo alla frazione Prato Comune, andò a fuoco e le due operaie non riuscivano a trovare la via di fuga, rimanendovi intrappolate. La sentenza definitiva da parte della Suprema Corte di Cassazione è arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì e conferma quanto già disposto a carico dell'imprenditore di origini calabresi sia in primo grado dal Tribunale di Sala Consilina che in appello dai giudici di Salerno. I legali della difesa, che fin dalle prime battute avevano cercato la soluzione per il titolare della Bimaltex, nel ricorso in Cassazione avevano contestato la mancata ammissione in udienza di una consulente di parte nel corso del primo grado. Motivo valido per avviare un nuovo processo. Per la Corte Suprema, invece, non vi è stato alcun vizio di legittimità, né in appello, né tantomeno in primo grado. Dunque, sentenza confermata. Otto anni di reclusione, con le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Interdizione legale per l'intera durata della pena, nonché incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione per tre anni. Biagio Maceri, unico imputato nel procedimento penale, ha dovuto rispondere dei reati di omicidio plurimo colposo, disastro colposo ed omissione dolosa in materia di cautela sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Per i legali delle famiglie, Curcio e Mercadante, è stata una sentenza di giustizia per una tragedia annunciata, ma che non restituirà comunque la vita alle due donne.